Ciao a tutti ragazzi e siamo qui su un tutorial per utilizzare footgalaxy.com footgalaxy è il nostro sponsor nuovo uno sponsor diverso dagli altri perché vi permetterà di scommettere su partite ovviamente calcistiche però potete farlo con i crediti di fifa quindi vincere dei crediti di fifa e poi trasferirvi tranquillamente sul vostro account quindi è un modo particolare anche per fare crediti e anche divertirvi con le scommesse ci sono come potete vedere dal sito nella sezione bets tutte le scommesse diciamo tutti i campionati sono campionati praticamente sconosciuti c'è anche il rugby ci sono anche gli altri sport l'nba quindi è diciamo un sito molto molto attrezzato come scommesse purtroppo c'è solo la possibilità di fare 1x2 ma tranquilli verrete guidati di settimana in settimana sul nostro sito utfifetalia.com con i consigli sulle scommesse un angolo in cui vi daremo dei consigli in generale io vi consiglio di fare delle doppie delle triple massimo delle scommesse da 4 con quote basse perché tanto il moltiplicatore diventa sempre alto e minimo dovreste scommettere 5000 crediti quindi mal che vada si guadagna sempre abbastanza allora innanzitutto bisogna procedere con la registrazione su sign up now registrate il tutto, vabbè serve semplicemente username, email non è necessario, non è obbligatorio mettere l'id di skype neanche quello twitter io l'ho messo così per comodità dovete per forza selezionare se siete playstation 3 o 4 o xbox 360 o 1 password insomma due volte confermate questa sezione da dove venite e qual è il vostro club preferito è inutile aggiungerla dopodiché cliccate su i read terms and conditions e andate su register ricordatevi di andare sul vostro indirizzo email e confermare la registrazione dopodiché vi registrate e siete all'interno ecco vedete siamo dentro il mio account fortunatamente ho vinto questa sera, questa notte due scommesse quindi ho 40.000 crediti io cosa vi spiego? in tre passi vi spiego come si deposita comprando crediti direttamente dal sito il che è quello che vi consigliamo perché non fate trasferimenti al vostro account avete uno sconto del 5% utilizzando il codice utfifitalia è un modo diciamo abbastanza sicuro vi spiegherò come invece si caricano i crediti dal vostro account e poi come si prendono i crediti una volta che si vince basta andare su my account e come vedete c'è questa sezione deposit divisa in money e coins in money scrivete ovviamente il discount code di utfifa italia così avrete lo sconto, submit e come vedete potete acquistare ad esempio 10.000 crediti 2,37 euro, 25.000 crediti, 4 euro eccetera eccetera e questi sono i crediti che potrete utilizzare che vi troverete poi nel balance chiamato in inglese quindi nel saldo che potete utilizzare per scommettere in questo caso cliccate per esempio vogliamo comprare 7,50 euro di crediti cliccate su buy si apre questa finestra e vi porta direttamente a questa piattaforma che è Checkout G2E e avete queste possibilità di pagare carta di credito, G2E wallet, bitcoin, skrill, so forth, pay safe card e alibay di solito quello più utilizzato è skrill oppure potete andare su G2E wallet che è un metodo un pochettino più complicato che però è quello che è più utilizzato come vedete c'è pure la chat, la live chat hai bisogno di aiuto a utilizzare la nostra live chat quindi non ci sono problemi per il pagamento una volta effettuato il pagamento vi troverete i crediti sull'account ovviamente non c'è da sottolineare che è sicuro perché G2E se vi, non so se lo conoscete ma è un sito sponsorizzato da tutti praticamente gli youtubers più importanti è quello in cui si possono comprare anche come si dice, FIFA Points, Playstation Store cioè Playstation Plus eccetera eccetera quindi assolutamente sicuro non mi fate questa domanda nei commenti perché vi giuro la odio è sicuro, non starei qua a metterci pure la mia voce se non fosse sicuro come metodo quindi questo è quello per comprare i crediti altrimenti caricateli tramite il vostro account è un modo semplicissimo rispondo subito alla domanda non c'è collegamento diretto col vostro account non c'è collegamento diretto, non dovete dare i vostri dati a nessuno cosa che comunque non sarebbe poco sicura però veramente non dovete dare crediti a nessuno account a nessuno allora andate su coins e selezionate se siete Playstation 3 o Playstation 4 se prima quando vi siete registrati avete messo che siete Xbox poi dovete selezionare o 3, 60 o 1 in questo caso mettiamo Playstation 4 e qui vi dice deposita 10.000 crediti foot e avrai 10.000 giustamente nel tuo saldo quindi clicchiamo su depositi e qui spunta questo disclaimer lunghissimo che vi traduco velocemente nel senso vi traduco in poche parole innanzitutto dovete tenere aperta bene la web app accanto come vedete qui c'è la web app tenete ben aperta la web app dopodiché fate ok e vi si aprirà questa patch come vedete avete 2 minuti e 50 vabbè avete 3 minuti per acquistare questo giocatore José Guerrero messo a 3.500 come pezzo di partenza e 10.000 come prezzo compra ora andiamo a cercare vediamo José Guerrero come vedete 67 abbiamo detto 3.100 10.000 ok perfetto 3.100 10.000 eccolo qua 2 giorni e 11 ore l'ultimo non potete sbagliarvi lo comprate io non lo compro perché non voglio depositare ma lo comprate e dopo qualche minuto vi spunterà qui nel vostro saldo vi spunteranno i 10.000 crediti che avete praticamente depositato cosa succede però nel momento in cui lo comprate dovete premere su player bout cioè player comprato così confermate di averlo comprato e di conseguenza confermate di averlo comprato e il sistema di foot galaxy vi depositerà i 10.000 crediti non cercate di fare i furbi dicendo giocatore comprato anche se non lo comprate e poi in realtà fate diciamo falsità diciamo perché non sono stupidi ecco non sono sistemi stupidi se non l'avete comprato perché non l'avete trovato perché nel frattempo che sono passati questi tre minuti e vi hanno bussato alla porta e vi hanno detto che è pronto il pranzo o perché eccetera cliccate semplicemente su player not bought fate ok e ve ne segnalerà un altro fate su deposit fate ok vi segnalerà un altro giocatore lo cambia e l'andate a prendere quindi questo è il modo non c'è alcun rischio perché qui state comprando un giocatore 10.000 crediti cioè non è che è una cosa che proprio dà troppo all'occhio quindi così potete depositare i crediti il mio consiglio è di non depositarne tantissimi ecco non mettete 200.000 crediti tutta una volta se volete fare la scommessa il sabato mettetene 20.000 fate le vostre scommesse e basta e sperate di vincere ovviamente quindi questi sono i metodi di deposito adesso andiamo a analizzare i metodi quelli più belli cioè quelli di come si dice per prendere i crediti che avete vinto e in questo caso dovete andare su my account andare su withdrawal ecco qua la tua console è la playstation tu hai attualmente 40.150 crediti e va bene 40.000 crediti qua per playstation 4 sarebbero 200.000 su playstation 3 questo non vi interessa selezionate la vostra console playstation 4 e ovviamente i trasferimenti si possono fare a 9.500 a 10.000 a testa quindi vi dirà adesso dovrei mettere un giocatore a 10.000 prima scegliete il giocatore che deve essere un giocatore non raro quindi in questo caso che ne so mettete babacar qui scrivete babacar vi spunterà kuma babacar perfetto dopo di che vi spunta questa piccola finestra in cui voi segnalate che state prendendo babacar e il sistema vi dice devi mettere babacar 7.400 10.000 per 3 giorni attenzione per 3 giorni mettetelo eventualmente abbia un cambio ruolo abbia uno stile intesa selezionate qui mi raccomando fatelo quindi dovete mettere 7.400 10.000 dopo di che avete finito avete sistemato babacar fate check out e dopo circa 2-3 ore ecco non cominciate a dire avete fatto ora il movimento e quindi dice ah perché ci vogliono circa 2-3-4 ore perché ci sono tantissime richieste avrete il giocatore comprato di conseguenza i crediti verranno passati eventualmente in questo caso io ho 40.000 mi ritroverei con 30.000 dopo di che se voglio procedere e portarne altri la selezione è sempre quella fare qui cercare che ne so storari marco storari eccolo qua e vi dice metti 5.700 10.000 3 giorni check out ed è fatta quindi è un metodo semplicissimo io vi ricordo sempre utilizzate il codice uttififitalia per il 5% di sconto se avete problemi e dubbi mandateci un commento a questo video non ci contattate in privato ripeto non ci contattate in privato ripeto non ci contattate in privato perché troppi messaggi vuol dire zero risposte perché è impossibile mentre con un commento non solo sarà più facile rispondere ma pure fra di voi potreste aiutarvi quindi vi raccomando utilizzate questo sito che è molto particolare e molto bello tra l'altro ho dimenticato si possono pure aprire dei pacchetti direttamente su footgalaxy e sono dei pacchetti in cui avete la sicurezza di trovare sicuramente almeno il il valore del pacchetto che state acquistando io per esempio l'altra volta ho aperto il pacchetto da 50.000 crediti e ho trovato qualche if vecchio tipo destro if qualche if argento e vi pagano il valore dei giocatori che trovate e ho ritrovato 50.000 crediti ma avete pure potreste avere anche la fortuna di trovarne giocatori molto più importanti che verranno messi nel vostro saldo e poi deciderete se utilizzare quei crediti o per spacchettare ancora o per portarveli sulla sulla console oppure semplicemente per scommettere quindi mi raccomando se avete dubbi commentate ci vediamo nel prossimo video